Si è spenta Ivana Buselli, vice caporedatrice della RAI di Trento. Aveva 58 anni e da Trento era uno dei volti più noti dell'informazione televisiva locale. Il funerale è sabato mattina. Apriamo questo telegiornale con il grave lutto che ha colpito la nostra testata giornalistica. Ci ha lasciato ieri sera la collega Ivana Buselli, vice caporedatrice della sede RAI di Trento. Aveva 58 anni. Sabato alle 9 il funerale con cerimonia laica al cimitero di Trento. Il servizio di Stella Antonucci. Una malattia aggressiva e veloce se l'è portata via lasciando in un dolore immenso chi la conosceva. All'età di 58 anni si è spenta nella sua casa di Trento Ivana Buselli, vice caporedatrice della sede RAI locale. A lei è legata una delle pagine più importanti dell'informazione radio televisiva regionale. Entrata per anni nelle case dei telespettatori, con garbo, intelligenza, fermezza, per raccontare il suo trentino. Inizialmente attraverso i notiziari di RTTR dove ha mosso i primi passi come giornalista e poi in RAI con il primo incarico che risale a 27 anni fa in una redazione, allora quasi esclusivamente, di uomini. Ivana Buselli ha portato un'inconfondibile impronta femminile per senso critico, capacità organizzativa, personalità. Originaria di Tione ha sempre creduto nell'informazione territoriale e negli anni si è battuta per la parità di trattamento tra i generi, per i diritti dei più deboli e per quelli degli animali che erano preziosi compagni di viaggio nella vita privata. Qui la vediamo in uno dei suoi progetti più belli, accanto a studenti aspiranti giornalisti a insegnare il mestiere in un progetto di alternanza, scuola-lavoro. E poi c'era il suo amore per i viaggi, la sua curiosità per luoghi e persone, la musica, le letture, un bagaglio prezioso nel lavoro di giornalista. Ivana ha combattuto il suo male con dignità, forza e coraggio e neppure negli ultimi giorni di vita è venuta meno la sua innata eleganza. A Guido il marito e Bruno il fratello, la vicinanza e l'abbraccio di tutta la squadra RAI di Trento e di Bolzano. Ciao Ivana, un grande grazie per la strada percorsa insieme. Grazie.